Sabato 25 febbraio prossimo avventuro si terrà Reggio Calabria presso il Cineteatro Odeon il primo corso convegno di aggiornamento sulle malattie allergiche. È stato organizzato dal dottor Antonino Malavenda, specialista allergologo dell'USL31, instancabile promotore di iniziative culturali nella nostra provincia, in collaborazione con l'Università degli Studi La Sapienza di Roma.